tappato assi vento ok non si può una sola vita insomma a fin di vita non ci bloccavamo sempre qua ma adesso andiamo avanti perché dove se quello non era un fungo ma c'è la fregatura e adesso io come passo no ma si è tolta ma che palle io cambio sempre il gioco quando perdo per stare il gioco a fare il Mario qua ci sono 10 livelli di Super Mario anche questa non l'ho provato ma ho visto la descrizione non c'è un po' che non mi convince no perchè io ho un mi preoccupo di queste cose tipo qua adesso faccio ok si war flash 10 nuove 19 oh porca quanti livelli no 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 come si saltava scusa ah come si diceva che si può scegliere oh ma quali cosa sono i cittadini? quelli erano le bomba quali cosa sono i cittadini? questi sono le bomba wow ma che cosa sono i cittadini? ma cazzo c'è io ho lì ecco mi diamo il cittadini wow oh 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 Ah che bravi il disco fortuna oddio da già vabbè magari ma se è a livello 2 no guarda la scala forse mi dicono ma dai tant'è facile su Uhhh, eh, neanche tanto, perchè? Uhhh, mmmm, nooo! Perché prima non si trova questo pulsante? Eyyyyyyo! Eyyyyyyo, che è Eyyyyo? Ciao Eyyyyo, ti ricordi? Ecco, prima... Uhhh... Aiya, sono dannato! Ech, basta, per emozione! E' un warflash Eeeeehhh... Mare sta scaccia questo mi piace tanto perché l'ho fatto tante volte e quindi si farlo ok 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 se avete qua cento monete ho costato una vita se perde tutte le vite morite bla 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 no ti diamo questo oddio questo ho salvato di minacca otto questa che ci fa andare 25 ovvero i livelli se prendete le monete che hai vedete di questi 5 livelli saliti saliti no 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 livello 10 sì dai finiamo questo è finito ops ops o le ops ok abbiamo finito praticamente finiamo qua però dopo non no 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 no